Cristiano Godanno dei Marlene Kunz si racconta fra musica e parole presso il Teatro Comunale di Cassano Ionio in una formula teatrale che sta a metà tra lo show e l'intimità che chitarra e voce possono rendere. Organizzata dal Movimento Culturale M3 e supportati dall'amministrazione comunale, la serata ha visto il coinvolgimento di un pubblico molto competente che guidato dalle note di Godanno ha saputo restituire tutta la gratitudine per i suoi 25 anni di carriera nel panorama del rock italiano. Credo che sia stata una serata gradevole in questo gradevolissimo teatro di Cassano che si prestava particolarmente per questo tipo di approccio intimo e trattenuto. Musica, chitarra acustica, voce, un piccolo teatro però tu ti attenti ad ascoltare? Sì, a me non mette in difficoltà il silenzio, non mi inibisce, io sono un rockettaro prima di tutto quindi sono abituato al caos del decibel, delle chitarre distolte, della batteria che picchia. Però sono anche molto attratto invece dalla dimensione intima e quando i Marlene e Kunza hanno fatto quelle due tournée che hanno fatto nei teatri, quando la gente sta in religioso silenzio più che altro perché si trova in un ambiente con una sua sacralità, in un teatro non ti viene di essere scalmanato, ti viene di stare seduto e composto. A me piace, mi stimola, mi stimola tanto quanto posso essere stimolato dal vedere la gente che balla quando facciamo i concerti più intensi, però sono due approcci che mi gratificano allo stesso modo.